Buongiorno, sono Nicolas Rossi di Agricar Mercedes. Oggi vi parleremo della classe A 250 Q Power, in particolare delle sue prestazioni. La nuova classe A 250 Q Power è dotata di un motore 4 cilindri benzina da 160 CV, accoppiato ad un motore elettrico da 70 KW, per un totale di circa 218 CV. La si avvia in perfetto silenzio e si muove in modo dolce. Nelle modalità più sportive, scatta da 0-100 in 6,6 secondi, fino a toccare una punta di 235 km orari. Dispone di diverse mappature in base alle esigenze. Si passa dalla più sportiva, fino ad arrivare alla più ecologica. Vi aspetto nelle nostre sedi per provare la nuova classe A Eko Power, perché guidare una Mercedes è sempre un'emozione. A Eko Power, perché guidare un'emozione.